Davide Vagnati, quanto è importante l'immagine nel calcio? Ma è fondamentale anche perché tramite l'immagine si dà anche una comunicazione al nostro interlocutore che dà un segnale di eleganza, di rispetto, di presenza, di ruolo. E penso che Andrea, col suo fantastico negozio Chiacco in Centro, come è Neno, ci dà un grande rispetto per quanto riguarda l'eleganza. Ci dà la possibilità di vestirci in un determinato modo che comunque poi rispecchia anche la serietà e l'eleganza della società e allo stesso tempo l'eleganza del suo negozio, che secondo me qui a Ferrara è uno dei posti migliori dove poter acquistare capi. Anche i nostri ragazzi che sono venuti qua oggi hanno apprezzato quello che ha a disposizione Andrea. Andrea, grande tifoso bianca-azzurro, cosa rappresenta per te la SPAL? Rappresenta l'unica squadra che ho sempre tenuto, tifato per sé, da quando papà ha iniziato a portarmi allo stadio che avevo 4-5 anni, quando c'era la Serie A, perciò della SPAL ricordo vagamente la Serie A e poi sono sempre tenuto solamente per la mia squadra, perché non mi sono mai interessato ad altre squadre, per me lo sport e la SPAL, sarà forse una stupidaggine che dico, però la SPAL è la squadra del mio cuore, squadra che ho sempre tenuto e che mi fa soffrire, gioire. Per me il calcio è la SPAL, tutto il resto va bene, però la SPAL, essendo un tifoso della Curva Ovest, da decina d'anni vivo la partita anche in maniera più determinata, in mezzo ai ragazzi, agli uomini anche non più giovani, come ormai non sono giovani neanch'io e c'è questo, non saprei la tua approccia, questo amore tra noi della Curva che bisogna viverla per capire veramente cos'è. E tu la vivi? Sì, la vivo sì, soffro, quando i ragazzi della Curva che vinciamo vengono sotto la Curva, piango, mi emoziono, mi viene la pelle d'oca, sono fatto così e questa emozione me la dà solamente la SPAL. È il bello del calcio ed è il bello della SPAL, ma vogliamo parlare un attimo del tuo negozio, tu sei un punto di riferimento a Ferrara per l'eleganza, da quanto tempo siete presenti qui in Cortevecchia? Io sono nato qua, per puro caso dove mi stai intervistando sono nato, mia madre mi ha partorito qua, la nostra attività va da 20 anni di Sartorio del papà e poi da 45 anni attività fatta con mia madre, mio padre e Dio, e perciò sono tantissimi anni che siamo, proprio in cui siamo, sono nato, viviamo e facciamo la nostra attività in questo punto qua. Che è storico, vuoi dirci anche perché il nome Neno? Ci sveli questa curiosità? Sì, Neno, mio padre si chiama, mio padre non c'è più da 4 anni, poi mi commuovo, perché mio padre si chiama Andreasi Giuseppe, ma il secondo nome è Nazareno, da Nazareno Neno. Un famoso soprannome che diventa più importante del nome, insomma. Sicuramente sì, sicuramente sì, sì, sì. E visto che siamo in prossimità del Natale, vuoi fare un augurio alla SPAL e ai suoi tifosi, quindi anche a te stesso? Sì, guarda, l'augurio più grande è che finalmente dopo tanti anni di sofferenza, così, con la nuova dirigenza, con tutto così, davvero potremmo così festeggiare il nostro sogno di andare in Serie B. Me l'auguro con tutto il cuore. Michele, casual, sportivo o elegante? Ma penso che noi sportivi tendiamo a vestirci casual o sportivo, magari elegante, solo in certe occasioni, tipo che possono essere delle cene importanti, così comunque penso che un po' di eleganza ci stia sempre bene in qualsiasi ambiente. Luca, quanto segui la moda nell'abbigliamento? Ma sinceramente non tantissimo, sono un po' svogliato, diciamo che preferisco un look un po' più casual, perché quando mi sveglio la mattina non ho il pensiero di come vestirmi o come sembrare un po' più elegante, però comunque, insomma, quando entro in qualche negozio, in centro, ogni tanto dare un'occhiata mi piace, anche in TV, quando guardo qualche programma. iscriviti al nostro canale!